Chiaro che brucia la sconfitta per come è arrivata perché si sono presi i gol su due piazzati, purtroppo soprattutto il primo, un po' di disattenzione è costata carissima all'Udinese. Sì, abbiamo preparato bene la partita con il mister, il primo tempo ci sono riusciti, il secondo tempo siamo stati disattenti sulle pari inattive, è una cosa nostra mentale, dobbiamo lavorarci e cercare di fare il più punti possibile. Ecco, chiaramente il momento non è semplice, però per te è una maglia da titolare, credo che almeno in questo senso la fiducia del mister sia una piccola soddisfazione per te essere sceso in campo la prima minuta. Sì, a livello personale va bene, però adesso dobbiamo concentrarci a livello di squadra perché sono sei partite che perdiamo, quindi sono contento a livello personale, anche se abbiamo perso, quindi adesso dobbiamo cercare di stare uniti, compatti, ma a livello di gruppo. Adesso preparare bene la partita di martedì contro la Fiorentina e fare il risultato lì. In questo senso avere così tanti impegni ravvicinati con la coperta così corta è un po' difficile, anche immagino per voi nel gruppo c'è sì la consapevolezza di voler fare bene, però è chiaro che anche il mister, prima in conferenza, diceva che le essenze si fanno sentire. Sicuramente siamo venuti qua a Bergamo consapevoli che ci mancava il centrocampo titolare, però quelli che hanno giocato penso hanno dato tutti loro stessi e siamo consapevoli adesso che dobbiamo fare più punti possibili, cercare di, adesso c'è questa partita importante contro la Fiorentina martedì e fare risultato perché vogliamo portare a casa punti.